Si parla d'altro, tra poco parleremo di Milan Cagliari finalmente, Bonera, Kakà che forse diventa anche un giocatore in più da comprare al fantascudetto di Sky, voi che siete appassionati e noi siamo lì a fare le formazioni, al microfono di Luca Tomasini. Eccoci qua, Daniele Bonera, contro la rovescia dei giorni per il rientro in campo, contro la rovescia però delle ore per l'arrivo di Kakà, l'hai sentito per caso al telefono? No, no, personalmente no, buonasera a tutti, è chiaro che stiamo parlando di un qualcosa di grande, nel senso che ho avuto la fortuna di giocare con Riccardo per tre anni, di vincere grandi trofei, di condividere i primi tre anni in Milan, una grande esperienza con lui, quindi sarebbe ovviamente il benvenuto. Cosa significherebbe anche per la squadra, per i tifosi, per l'ambiente, vi darebbe la carica? Beh, è chiaro che un personaggio come Riccardo porterebbe grande entusiasmo sicuramente, in dubbio che prima sono state fatte delle valutazioni tecniche, quindi credo che se dovesse arrivare sia innanzitutto una questione tecnico-tattica. Ilaria? Grazie Bonera, davvero siamo a ridosso del calcio d'inizio, però insomma vogliamo sempre di più capire la fisionemia di questo Milan, ora pensiamolo senza Kakà, poi nelle prossime ore daremo all'annuncio in tempo reale, siamo sicuri con Gianluca Di Marzio, buona stagione!